finalmente sono così felice di essere qui pace e tranquillità oh no è di nuovo lei fatemi uscire vi presento mike e sarah non si sono mai incontrati fino ad ora le ultime patatine prendile tu tutto quello di cui ho bisogno sei tu abbiamo un nuovo studente oggi è lui! gli preparo il posto migliore della classe siediti mike è di nuovo quella strana ragazza wow bella sedia cominciamo chi ha preso la mia sedia? michael ridammi la sedia ricreerò il nostro incontro con le patatine voglio le patatine tesoro non esiste non mangeremo più cibo spazzatura eccolo oh prendile cosa? hai un intero carrello pieno di patatine? non sono mie guarda piccola è il destino cosa? ti sei dimenticato della dieta? che egoista la stanza di mike che casino metterò in ordine qui dentro e organizzerò i suoi calzini impila dei calzini colorati unisci i bordi con un'etichetta decora una scatola di fazzoletti vuota con carta fantasia e mettici dentro i calzini ora tutti i suoi calzini sono in un unico posto cos'è successo qui? cos'è questo? calzini? così tanti? e tutti spaiati? è un mistero di calzini lei non è qui, vero? posso finalmente prendere le patatine? ciao! oh no! non di nuovo! deve essere il destino ecco prendi i miei soldi non voglio niente darò a mike un grande regalo un marsupio che lo aiuterà nei suoi esami prendi due pezzi rettangolari di silicone per fare una borsa inserisci una cerniera infila un nastro di fettuccia ai lati cuci metti una fibbia sul nastro scrivi le formule matematiche con un pennarello permanente ecco! questo è per te ok, grazie bene ragazzi oggi farete un test mettetevi al lavoro michael cos'è questo? un bigliettino? capisco whoops ti becchi una F grazie mille per l'aiuto mi dispiace mike! mike! cosa? sorridi, dai! sorridi! sorridi! sei più bello quando sorridi questo va meglio? piega il tessuto di jersey a metà e cuci lungo il bordo fai un disegno con un pennarello per tessuti poi coloralo con la vernice per tessuti disegna un sorriso sul retro potrei fissare il tuo sorriso per sempre prendo un croissant solo un minuto ti porto io un croissant piccolo fammi sistemare i baffi stampa un biglietto d'amore e taglialo a strisce copri le strisce con del nastro adesivo e fai un rotolo taglia un croissant e infila il biglietto all'interno sciogli il cioccolato versalo sul croissant e aggiungi degli zuccherini grazie cos'è questo? un telegramma dello chef sei il mio destino che strano ecco il suo ordine grazie, sono pieno bello scherzo quale sarà? penso questo preparati a vedere il mio amore nel tuo armadietto uops armadietto sbagliato ehi Mike cos'è questo? cos'è cosa? questi cuori Sara? ancora tu? sono stufo di tutto questo wow Mike ha cambiato stile lo amo ancora di più cambio stile anche io sono pronta sono una fan fatale ciao Mike oh questo è troppo cosa? perché? oh Sara perfetto ho bisogno di fare dei buchi in tutti questi fogli grazie non è il mio piano migliore ti amo ti odio cosa c'è scritto? mi servono i miei occhiali fortunati infila alcune perline di cristallo e perle sul filo da pesca intreccia una collana attacca un tappo di perline e un filo elastico infilalo sulle stanghette degli occhiali questi occhiali fanno sembrare tutto il mondo rosa sapevo che mi amavi Mike ecco i risultati del test evviva! ho preso il massimo aspetta no sono solo gli occhiali Mike finalmente hai capito spostati Sara bella questo è per te che tocco dolce oh sei così forte cosa? ce ne sono due devo andare Mike stai dormendo? uh guarda che bel brufolo tesoro hai bisogno della mia maschera detergente per il viso mescola tre pillole di carbone attivo schiacciato un cucchiaio di argilla blu e un cucchiaio di perossido di idrogeno metti la miscela in un piccolo barattolo metti un'etichetta sul coperchio aspetta solo 15 minuti guardatelo spostatevi aspetta è davvero esilarante Mike è spumeggiante cosa? ancora Sara? ups sogni d'oro Mike ti ipnotizzerò nel sonno e ti innamorerai di me girati così a domani tesoro mio amami amami amo Sara amore mio vuoi sposarmi? oh sì sì no cos'è stato? Sara Sara dobbiamo parlare cosa? ciao Mike wow sei la ragazza dei miei sogni un canestro dritto nel tuo cuore ti è piaciuta la nostra nuova storia d'amore scrivi qui sotto se hai mai fatto qualcosa di audace per attirare l'attenzione della tua cotta e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom come on ciao 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 ciao